Sigmund Freud, studi sull'isteria e altri scritti, 1886-1895, a Bozzi per la comunicazione preliminare. Sulla teoria dell'attacco isterico, Freud e Brewer. Ancora non esiste, a quanto ci consta, alcuna teoria dell'attacco isterico, bensì solo una descrizione datane da Charcot, la quale, peraltro, si riferisce alla grande attacca isteric, forma di durata non inferiore al normale e raramente osservata. Secondo Charcot, un tale tipico attacco consiste in quattro fasi. 1. Quella epilettiforme. 2. Quella dei movimenti ampi. 3. La fase delle attitude passionelle. 4. Quella del delir terminal. Poiché alcune di queste fasi possono rendersi indipendenti, protrarsi, modificarsi o mancare, sorge, secondo Charcot, tutta quella molteplicità di forme e di attacchi isterici che il medico ha occasione di osservare più spesso della grande attacca isteric. Questa descrizione non offre alcuna spiegazione dell'eventuale interdipendenza delle singole fasi, del significato dell'attacco nel quadro generale dell'isteria e delle modificazioni degli attacchi nei singoli pazienti. Forse non andiamo errati supponendo che presso la maggior parte dei medici predomini la tendenza a vedere nell'attacco isterico una scarica periodica dei centri motori e psichici della corteccia cerebrale. Siamo pervenuti alle nostre vedute sull'attacco isterico trattando i soggetti isterici con il metodo ipnosuggestivo, interrogandoli in ipnosi e studiandone i processi psichici durante l'attacco. Per quanto riguarda l'attacco isterico, abbiamo fissato i punti che seguono ai quali comunque apponiamo alla premessa che abbiamo considerato indispensabile per la comprensione dei fenomeni isterici l'ipotesi di una dissociazione, una disgregazione del contenuto di coscienza. 1. Il contenuto costante ed essenziale di un attacco isterico, ricorrente, è il ritorno di uno stato psichico che il malato ha già precedentemente vissuto, in altre parole, il ritorno di un ricordo. Affermiamo quindi che la parte essenziale dell'attacco isterico è contenuta nella fase che Charcot definisce delle attitude passionelle. In molti casi è assolutamente evidente che questa fase contiene un ricordo della vita del paziente, spesso sempre lo stesso. In altri casi tale fase sembra però mancare. Apparentemente l'attacco consiste solo in fenomeni motori, in contratture epilettoidi, in uno stato catalettico o simile al sonno. Tuttavia, anche in questi casi, l'indagine effettuata nell'ipnosi offre la prova sicura di un processo omnestico-psichico, quale si svela di solito con chiara evidenza nella fase passionelle. Le manifestazioni motorie dell'attacco hanno sempre un rapporto con il suo contenuto psichico e rappresentano l'espressione generale del moto interiore che le accompagna, oppure corrispondono esattamente alle azioni comportate dal processo omnestico-allucinatorio. 2. Il ricordo che forma il contenuto dell'attacco isterico non è un ricordo qualsiasi, ma è il ritorno dell'evento che ha causato l'attacco isterico, e cioè il ritorno del trauma psichico. Questo rapporto è di nuovo evidente in quei classici casi di isteria traumatica che Charcot ha imparato a conoscere negli uomini, in cui un soggetto che prima non era isterico soccombe alla nevrosi dopo un solo grande spavento, incedente ferroviario, caduta, ecc. Il contenuto dell'attacco consiste qui nella riproduzione allucinatoria dell'evento connesso con il pericolo mortale, accompagnata forse dalle sequenze di pensieri e dalle impressioni sensoriali che il soggetto minacciato ebbe allora. In questi casi, tuttavia, il comportamento non differisce da quello della comune isteria femminile, ma anzi ne è un esatto modello. Indagando, seguendo la via che abbiamo indicato, il contenuto degli attacchi dell'isteria femminile, ci si imbatte in eventi che, per la propria natura, sono essi pure adatti ad agire da traumi, spavento, malattia, delusione. Di regola, in questi casi, il grande trauma singolo viene sostituito da una serie di drammi minori, tenuti insieme per affinità o perché parti di una stessa tribolazione. Spesso questi malati hanno anche diverse specie di attacchi, e ogni specie ha un particolare contenuto omnestico. E questo fatto induce ad ampliare notevolmente il concetto di isteria traumatica. In un terzo gruppo di casi, si ritrovano, quale contenuto degli attacchi, ricordi che, in sé per sé, non parrebbero avere un valore traumatico, ma che devono chiaramente tale valore al fatto che, per la loro coincidenza con un momento di aumentata disposizione patologica, vi si sono associati e sono quindi stati elevati a traumi. 3. Il ricordo che forma il contenuto dell'attacco isterico è un ricordo inconscio, o, per meglio dire, appartiene al secondo stato di coscienza, più o meno altamente organizzato in ogni tipo di isteria. Ne deriva che esso manca completamente nella memoria del malato anche quando questi si trova in uno stato normale, oppure vi è presente solo in modo sommario. Se si riesce a riportare completamente questo ricordo nella coscienza normale, cessa la sua capacità di provocare un attacco. Durante l'attacco stesso, il malato si trova completamente o parzialmente nel secondo stato di coscienza. Nel primo caso, nella sua vita normale, egli si dimostra amnestico per quanto si riferisce a tutto l'attacco. Nel secondo caso, egli si rende conto del suo stato di alterazione e delle sue manifestazioni motorie, mentre il processo psichico che si svolge durante l'attacco gli rimane celato. Questo processo, tuttavia, può essere sempre risvegliato mediante l'ipnosi. 4. Il problema dell'origine L'origine del contenuto omnestico degli attacchi isterici coincide con il problema di quali siano le condizioni normative per cui un evento, rappresentazione, proposito, ecc., viene accolto nel secondo stato di coscienza invece che in quello normale. Abbiamo riconosciuto con certezza in soggetti isterici due di tali condizioni. Se l'isterico vuole intenzionalmente dimenticare un evento, se violentemente allontana da sé o inibisce e reprime un proposito, una rappresentazione, questi attacchi psichici cadono allora nel secondo stato di coscienza, di dove esplicano i loro effetti permanenti, mentre il ricordo di essi ritorna come attacco isterico. Isteria delle monache, delle donne continenti, dei ragazzi beneducati, di coloro che sentono in sé un'inclinazione per l'arte, per il teatro, ecc. Nel secondo stato di coscienza cadono anche le impressioni provate durante uno stato psichico insolito, affetti, estasi, autoipnosi. Aggiungiamo che ambedue queste condizioni spesso si combinano tramite un rapporto interiore e che, oltre ad esse, si deve ammettere l'esistenza di altre condizioni. 5. Partendo dal presupposto, peraltro ricco di sviluppi, che il sistema nervoso tende nei suoi rapporti funzionali a mantenere costante qualcosa che potremmo chiamare somma di eccitamento e che esso realizza questa condizione della sanità psichica, liquidando ogni sensibile incremento di eccitamento per via associativa o scaricandolo mediante una corrispondente reazione motoria, si perviene a una proprietà comune a tutti quegli eventi psichici che si ritrovano quali contenuto degli attacchi isterici. Si tratta generalmente di impressioni alle quali viene negata una scarica adeguata, sia perché i malati ne respingono la liquidazione per paura di penosi conflitti spirituali, sia perché, così come avviene per le impressioni sessuali, essa è vietata dal pudore o dai rapporti sociali, o infine perché queste impressioni vengono provate in stati durante i quali il sistema nervoso è incapace di assolvere il compito di liquidarle. Per tale via, si perviene anche a una definizione del trauma psichico valida per quanto riguarda la teoria dell'isteria. Diviene trauma psichico ogni impressione la cui liquidazione, tramite lavoro mentale associativo o tramite reazione motoria, presenti difficoltà per il sistema nervoso.